Sono esasperati i residenti di via di Granaretto a Palidoro, le fogne spurgano direttamente su via Aurelia e per 300 metri inondano il terreno fino ad arrivare quasi alla stazione. Una situazione che rassenta l'emergenza igienico-sanitaria. Le tubature che arrivano da Monte, dal centro residenziale Granaretto, che scendono verso via di Granaretto, ad un certo punto c'è l'imbocco con il collettore principale del comune e sono già tre volte quest'anno, ogni volta che piove, le acque, stiamo parlando di acque nere, di fogna, diciamola tutta, che fuoriescono su via di Granaretto, attraversando via Aurelia finiscono alla stazione, vicino le case e le abitazioni anche della stazione, emanando un odore che non le so, insomma, se lo puoi immaginare da sola. Questo succede quando piove, succedeva meglio quando piovea, ora succede anche quando non piove, evidentemente la sporcizia che è dentro si è incastrata all'imbocco col collettore e l'acqua è tornata indietro fuori uscendo su via di Granaretto. Una puzza assurda, chi passava, poi comunque si era allagato, l'acqua era altissima, stiamo parlando di 5-6 centimetri d'acqua sporca, di acque scure, la gente che passava andava alla stazione doveva entrare in queste acque. Avete mai fatto segnalazioni, ho chiesto una manutenzione di questo collettore? Sì, ho fatto segnalazioni, io personalmente, a mia firma, un protocollo, ora il mese credo sia a ottobre, direttamente all'assessorato, esattamente all'assessore Caroccia e alla segreteria del sindaco. Ho chiesto la pulizia di tutte le tubature, delle fognature, eccetera, ma ad oggi niente. Probabilmente c'è un problema di non curanza nella pulizia, anche dei canali di sbocco delle fognature, perché ogni tanto poi il condotto si intasa e quindi questo crea la fuoriuscita di questi liquami. Chiaramente i problemi sono di carattere igienico-sanitario principalmente, e poi anche il cattivo odore che si sente, è anche una bruttissima visione per chi viene qui in questo comprensorio. Siamo preoccupati, perché parecchie volte ho chiamato anche i carabinieri, i vigili, sono venuti qua, hanno fatto finta di niente, gli ho detto, vabbè, venite qui, ve lo faccio vedere. Io l'ho dimostrato che sono venuti qui, dice, ma questa è acqua? No, questa qui è fogna, non è acqua. Quando che la problematica sarebbe stata fatta benissimo fare un depuratore sotto qui, senza spendere soldi per portare la fogna giù a Frigiene, con le pompe, con tutta la linea nuova che hanno fatto attraversamento delle strade, ferrovie. Quando che qui benissimo potevano fare un depuratore, che c'era uno spazio per farlo, e il fosso per portare via tutto quanto quello che serviva. Insomma, i residenti sono preoccupati e temono che con l'arrivo dell'estate la già precaria situazione igienico-sanitaria possa peggiorare.